Oh, nuovo obiettivo Ah, è giù Tema Sì, però dobbiamo andare a cercare la mamma di quella Eccolo Tema Eh, ma lo so, ma tanto ti dà la mini sfida Se non te la dà, puoi dire che non hai una mini sfida lì È molto semplice Potevo saltare giù, però visto che giorno non volevo che magari... E cosa? Ancora, vedi i pallini rossi sopra? Eccolo Va No, lo stai appendo È quello che se non vuole andare È giù, allora O è su È su Perché vuole, vuole Sì, è salito su, sicuro È qua? Niente, è ossessiva È loro! È quelli! È quella farfalla! È sicuramente importante È tutto importante Vabbè, quindi rifacciamo la scalata rapidamente, ragazzi Un'uccello Ma come no? Ho detto no? Sì, come vuoi Ciao, ciao Scusa Ho premuto per sbaglio Come sono felice Sì, è un'uccello che si alzò in volo con l'uccello bianco Ovviamente Eccolo, eccolo Lo vedi? Sì, quindi le montagne faranno Il mio nennino si è inanzato in volo con l'uccello bianco Proprio su da quell'albero Va bene, vabbè Prima o poi ci andremo No La cosa che l'uccello bianco aveva nel pancino Il mio nennino non è più qui per raccontarmi la storia Che tristezza Te lo diremo noi È un sagrario, bimba È un sagrario Allora, ora Andiamo su, va Ma qua non si può andare su Si può sempre andare su Niente limiti Sì, lo so Potrei mettere la cosa Ma è tanto Io te lo dico ogni volta E anche Sebi Te lo dice ogni volta Pure Peppe Ecco Allora, va bene, va bene Mamma mia Io gli lo dico Poi lui dice Ma no, ma allora ci arriviamo in due minuti Così Ma sì, è perché il cambio di outfit Guarda quanto sei più bello Non è banale per niente Questa che difficoltà è nel Sarà Troppo Sette Sette Allo Ottavo Ottavo Per gli amanti della rampiegata Ci abbiamo roba per la stamina Forse sì Prevedo che servirà Visto abbiamo fatto bene A prendere la stamina Che altro perché sta panciona Mi che ha detto che ce la fai ragazzo Se non la giro Lì sembra un buon resting point E così Che devi sotto No, no Sempre positiva Black Meno a me ci vedo A supportarci Io sono realistica Eh sì Realista al massimo Però Ce l'abbiamo fatta Quindi avevo ragione In realtà C'è qualcosa Un karago Sospetto che non sia l'unica Cosa da Invece sì Così a buco Vabbè Cioè se tu giravi Dall'altra parte Non l'avresti mai trovato No vabbè dai Già che c'è una Cosa che vola Ciao se mi corrompo Eh ma se tu Arrampicavi di qua Come facevi Vabbè però Comunque sia una roba in volo A un certo punto Fa freddo Stiamo morendo di freddo E non c'è niente Qua sopra No Sicuro Aspetta aspetta No Forse sta dentro Quella cosa che vediamo Sta sotto Non mi immagino Guarda Metti un teletrasporto Non si sa mai Allora ragazzi Siamo arrivati qui Assolutamente senza alcun motivo Mettiamo però un teletrasporto Lì c'è qualcosa Che forza Ah un sacrario Quella è una roba del sacrario Lì ce la metto Perché questo Metti però un teletrasporto Si piazziamo il teletrasporto qua Poi ci fiondiamo Aspetta In questo posto No Si io sono curiosissimo Ma lì Eh ma sicuramente non c'è là Non ci sta il tigua Eh vabbè ma c'è qualcosa Ah vabbè C'è una preghiera Un seme corogo Un seme corogo Ma il tizio sta giù Sarà quello lì che ci diceva C'è anche un'altra cosa là Un altro seme corogo Yeee Mettiamo una mela Allora All'inizio Ma vai a salire bene Su sto cosa Guarda il ritardello Sì 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 Il corogo Con lo sparo In testa Quello miserita Quindi di notte Se arrivi lì su Vedi tutti i cosi Tosforescenti Che bello Che ti indicano Dov'è il corogo Ok No te li trasporto Ah se no No vai qua sotto Bravo Tu lo sai Che cos'è Quella cosa Vero Tu lo sai È roba brutta Oddio Vai Abbiamo fatto bene A mettere il teletrasporto Decisamente bene No Wow Vabbè Sti due semi così Al volo Ciao caro Ciao Siamo a nove Bene Teletrasporto Sì Comunque Quello sta giù Sicuro Vabbè Metti il teletrasporto No no Dornigla Sì Qua è da Qui è da dove Poi con il tizio Andremo all'assalto Sicuro Quindi non Non togliere il teletrasporto Eh dipende però se Ci sarà qualche schifo da fare Allora lì ci siamo andati Di qua Sì ma non c'è niente Non c'è assolutamente niente Dobbiamo andare giù Quello sarà il tizio che c'era O quello ferito E sopra qui Dentro questa casa sembrerebbe Il discendente Scusa ti ho sentito parlare con il patriarca Quindi è con lei che dovevamo parlare Diceva No questo è Saki Diceva che andrai a aiutare mio marito A Tebba a combattere contro un metò Anche se non c'è molto che possa fare al momento Potrei soltanto dirti dove Si trova mio marito Perfetto Esattamente quello che vogliamo D'accordo Sulla montagna Sicuro Mio marito è diretto in un posto chiamato Volodromo 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 Si trova al passo di Anapoi Passo Anapoi chissà dov'è Alle pendici della montagna di Ebra Meno male che abbiamo fatto il giro in verso Così ci abbiamo già tutti i tre trasporti E' un posto dove i ridi e i guerrieri Si esercitano a combattere nei cieli Probabilmente è andato A prendere delle elmi Per prepararsi ad affrontare Un'altra battaglia contro un metò Tra l'altro Stavolta si è regato al volodromo Volodromo a piedi Perché no? Perché a piedi? Perché ci dice la strada volè Di solito Si può volare Alla piazza Revali Giù fino al volodromo Ma adesso Ma se adesso volassimo in alto nel cielo Vedo ci abbatterebbe subito La piazza Revali E' un posto di ristoro A cui è stato A cui è stato dato questo nome In onore del campione rito Revali Affinché nessuno dimentichi Gli eventi di quel terribile giorno Va bene Pro minimale la piazza Vabbè perché lì devi Notare che quello è un simbolo E' chiaramente Star Wars Chiaramente che hai un ricordo Esatto Wow Vabbè che bello Ti può dare Ciao a sentire Ah ciao Ah però è un po' Sfrontatello ragazzo Fai che finaccia che hai fatto Te sta bene Ma ora mi sembra eccessivo Te sta bene però Ah Perché non ci devo trattare così Ma si guarda Ah guarda che stronzo Il merito discendente Il merito ci deve Va tutto bene Mi dispiace Davvero Devo aver parlato troppo Se qualcosa non è chiaro Non esitare a chiederlo Più tardi A chiedermelo più tardi Oh vabbè Dobbiamo andare dal Marito Da lei Che sta L'acqua E io direi quindi Te le trasporto E voliamo E ci le riveliamo E' servito Almeno arrivare là Ah ma forse Se ci riveliamo Ci spara Chissà Vediamo Allora ragazzi Questa puntata sarà Leggermente più lunga Verosimilmente Delle altre Perché comunque Come tutte le Pre Sacrario E colossi E dintorni Insomma E sono sicuro Che non vi dispiacerà Troppo visto Il momento importante Allora Da qua Dici che è il Sacrario? Eh sì Sicuro No Secondo me E' qui in alto Sì sì è là Tra l'altro C'è pure il Sacrario Perché lì Vedi è una zona In cui combattimenti aeree E li puoi fare Dove c'è la bandiera? No Secondo me è dentro lì Ah è dentro proprio Sì Stai morendo di freddo Mazza Seppure con questa Aspetta C'è l'altro vestito Sicuramente Il migliore C'è anche i gamballi Sì ma al momento Non ci sarei Vedi che lì dentro Non è la strada Quindi prima Prendiamo il Sacrario E poi andiamo In quella Cittadella Sacrario di Shatawa Shatawa La via dei venti nascosti Sacrario di Shatawa Non c'è nulla È nascosto Dobbiamo salire parecchio Sì questa è tutta paravela Dio Dio Sì questa è tutta paravela Sì questa è tutta paravela Sì questa è tutta paravela Anche senza la pedana Potevamo fare Mentre guardiamo Non mi pare ci siano Scrigni qui Oddio Eh dobbiamo trovare Nascosto Sarà dietro Eccolo Uno solo È strano Vediamo però Potrebbe Essendo molto Tutto compatto È strano Carino però È strano Sì diverso Più che altro A tema Sì Gloria a te Per aver superato la prova Sì 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 grazie caro Lo sappiamo Molto indiani Come stile Di vestiario Sì è vero Vai Le compotini pure caro Paraparà Vai Arrivederla Oh Andiamo finalmente Dal nostro amico Com'era che si chiamava? Tat Tacos Tacos Fame Io non ho fame Io non ho fame Mi amo Sì snowboard Stai provando a fare questo Ah non posso Perché Ah perché c'hai Certo 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 L'hai fatta Bravo 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 Questo era da fotografare Forse Eccolo È bianco Che bello che è Sembra un duro E tu che saresti Adesso ho molto da fare Scusa Lasciami in pace Per favore Ma tutti scontrolli Un carattere forte Ma che forte Non ti lascio stare Però dai Ti serve qualcosa Ho da fare Ti voglio aiutare Mi vuoi aiutare A fare cosa Colosso Vamedò Aspetta Un visitatore Che conosce Il colosso Sacro Vamedò Devo ringraziare Il patriarca O mia moglie Probabilmente Hai anche sentito Parlare di me Mi chiamo Teba E tu Qual è il tuo nome Straniero Sono Link Link L'ho già sentito prima Allora Link Se hai incontrato Il patriarca Significa che sei qui Per riportarmi indietro Lo dico bene Giusto C'era da aspettarselo Il patriarca Che si affida Al primo che passa Proprio degno di lui Probabilmente Ti ho detto Ti ha detto Di riportarmi indietro Prima che me do Mi ferisca Spiacente Ma io non mi arrendo Anche se non sembra Sono un guerriero rito Non posso fuggire Con la coda Tra le gambe Specialmente Dopo aver visto Come hanno ridotto Il mio amico Però Ci sarebbe Un modo Per farmi rimanere Al borgo dei rito Qual è? Basterebbe ridurre Al silenzio Il colosso sacro Vamedò E farlo sparire Dal cielo In altre parole Voglio distruggere Il colosso sacro Vamedò Se riusciremo A farlo subito Allora Ti accontenterò E tornerò Al borgo Ho capito Mi va bene Hai capito Immagino Che ti abbiano Detto tutti Nel borgo Di che pasta Sono fatto Ma È come ha detto Il patriarca Per fermare Per sempre Il colosso sacro Vamedò Bisogna Entrarci dentro Non dirmi che Sai come entrare dentro Bah Quindi non solo Non hai le ali Ma ti manca Anche il senno Va bene Ora ti spiegherò I soli In grado Di aprire Le porte Dei colossi Sacri Sono i 5 Campioni Purtroppo Per noi Però Sono morti Tutti 500 anni Fa No È stato Ganon Che Beh Lasciamo perdere Non importa Se posso entrare Dentro Medò O meno L'importante È zittirlo Una volta Per tutte Sappi che Se ti avvicini A Medò Facendoti Notare Ti farà saltare Tutte le piume Con il cannone È per questo Che devo metterti Alla prova Noi guerrieri Rito Usiamo le correnti Ascensionali Di questa valle Per allenarci Nelle battaglie Aeree Con arco E frecce Le correnti Sono così forti Che basta aprire Un pezzo di stoffa Sopra la testa Per riuscire A sollevarsi In aria Ora mostrami Cosa sei capace Di fare Con i metodi Di allenamento De rito Cerca di Destreggiarti In aria E distruggi Cinque bersagli Di questa valle Entro tre minuti Vai 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 Anima 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 Oh I Anima Anima Troppo su Perfetto Terno qui Era una prova secondo te questa? No Ci sai proprio fare con l'arco Quando scocchi una freccia è come se il tempo si fermasse In effetti succede Scusami Link Ti ho sottovalutato A giudicare dalla tua mestria con l'arco Devi averne passate tante Esattamente Già si vede Già si vede Link Mi piace Ora è il momento di farti una richiesta Seguimi Dirigiamoci verso Medò Colpisci senza pietà i suoi cannoni Proprio così Dentro quello scrigno c'è un arco modificato da me Prendilo e fammi sapere quando sei pronto Quale scrigno? Quello Ah questo Mi devo liberare di un arco forse No c'è lo spazio Arco falcone Un elegante arco fabbricato con maestri Da un maestro artigiano rito Permette di scoccare frecce più rapidamente Ed è usato del guerriere di rito Che è cielo nel combattimento aereo Fatto Finalmente è arrivato il momento di affrontare il colosso sacro Vamedò Quei cannoni sono invulnerabili alle frecce normali Per questo dovrai distruggerli con le frecce bomba Prendi queste frecce bomba Grazie Hai delle risorse limitate Quindi non aspettarti che te ne dia delle altre Ne abbiamo milioni Inoltre lassù farà freddo Immagino tu abbia già qualcosa che ti aiuta a combattere il freddo Sono pronto Bene ma prima permettimi una domanda Perché fai così tanto per aiutarti Per aiutarmi a sopprimere Vamedò Per aiutare Zelda Non sto a guardare Non sto a guardare Per aiutare Zelda Zelda È lo stesso nome della principessa per cui i rivali Prestò servizio cento anni fa al castello di Hyrule Esatto Non capisco che relazione possa esserci fra quella persona e il colosso sacro Vamedò Ma tu mi aiuterai a sconfiggere Vamedò Dico bene? Anche il villaggio Va bene Va bene Ora andiamo Salta su Che figata Wow Un altro sulle spalle Come per lo squalo Ma se è vero Dopo questa ragazzi si entra dentro il colosso Che spettacolo Ma lo sai che anche a me si ghiacciano le penne a stare qua su Lì sarà da dove si entra chissà Allora la vedi quella cosa enorme laggiù E Vamedò Quella barriera Ci darà del filo da torcere Che ti prende Link? Hai troppa fifa per aprire il becco? Forza su Ripassiamo il piano d'attacco I cannoni Li vedi quei cannoni? Io farò da diversivo e attirerò il fuoco Mentre io sarò impegnato a schivare Tu usa le frecce bomba per distruggere i cannoni Tutto chiaro? Se devi allontanarti Tira fuori quel pezzo di stoffa Intercetta una corrente ascensionale E penserò io a riprenderti Cerca di non sprecare munizioni contro la barriera di Medò Soprattutto non ti avvicinare E non toccarla assolutamente Ah un'ultima cosa Te lo ripeto A costo di sembrare una gallina vecchia Non dimenticare di proteggerti dal freddo Deve fa davvero davvero freddo Devo prepararmi Devo mettere Allora Frecce bomba prese Poi Il Falcone Poi Le frecce ce le abbiamo Ci servono i pantaloni da freddo In realtà siamo messi bene comunque sia E questi Però li mettiamo perché fa più figo Sei pronto? Andiamo Andiamo No troppo lontano Sposta lì Intanto Non l'ha presa No È morto Che spettacolo ragazzi Che morto Attento Sì Più alto Sì È che siamo ancora lontanissimi Sì Tutto a posto Frate Siamo In altissimo Eh Che strategia Sì Guarda sotto Che sono arrivate le bombe giù Ah Che forza Siamo in pericolo Non siamo in pericolo Questo È la posizione Anche questo è andato Wow Bello Bello Perché poi Comunque Si differenziano sempre Sti colossi Sta cosa è bella Proprio Sì Spero che da dentro Non sia sempre così Sì Un po' più Interessante Lo vorremmo Ah sì Un solito Stai tranquillo Amico Questo è l'ultimo Non ti viene a prendere No L'ultimo Non lo credo sia Quello Ah Sono quattro Esatto Agli avoli Quanti fare col piede Uh Quello Lui è mischiato Siamo esattamente Dove vogliamo essere Io non lo so Oh Uno Che stupido Addio alla barriera Ragazzi Si entra Vediamo se indovinate La prossima puntata Cosa sarà Ah lì è il centro Sì La sfida Lunga Non sarà qui sopra Bello Beh È stato ferito Sì Perché fa tutto il gradasse E poi Eh vedi Eh sì Vai tranquillo Eccolo Bello ragazzi Che bello Bello Non vedo l'ora Di avere il potere Loro Che ti fa sparare In alto Così Devi scavare Più Eh infatti Ragazzi Che insomma Questa puntata È stata interessante Sicuramente È scontro rapido Ma Comunque È diverso dal solito È anche troppo facile Però Vabbè Questo è lo standard A quanto pare Il vero grosso difetto Di questo gioco Eh sì E niente Speriamo che vi sia piaciuta Questa puntata Non è ancora finita Ovviamente Che bello Guarda 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 Ci stanno presentando Il colosso Ah perché ora ci parlerà Il nostro amico Eh sì Questo logo È stato registrato Sulla mappa Come punto di teletrasporto Poi abbiamo L'elmo suo Colo sagro Che stessi venuto Un giorno Ma farmi aspettare Cento anni È stato Tanto carino Beh Ora spero Che vorrei liberare Medoda Il controllo Di canon Ma sì Per prima cosa Devi procurarti La mappa Per orientarti All'interno Del colosso Sì Sembra bello Dai È gagliardo Ma che gagliardo Allora ragazzi Insomma Da qui si parte Già io vedo qualcosa Che la prossima volta Dovremmo distruggere Ma lo faremo La prossima volta Quindi Ci si saluta Ciao belli Ciao E alla prossima E mi raccomando Mettete like Mettete Seguite Iscrizioni al canale Continuate a seguirci E fateci sapere Che ne pensate Del colosso Sì Ciao belli Ciao